Letizia, madrina di questa apertura della boutique, cos'è che le piace di più di Dolce Gabbana? La maniera è come loro vedono le donne, è per tutte le donne, la moda è accessibile per tutti. La moda cos'è, allegria o stile? Stile, sensualità, oggi per esempio è stato molto solare. E soprattutto la famiglia che conta? Per me sono molto idealista la cosa la più importante. La famiglia la più importante? La famiglia ma anche la famiglia che tu ti inventa, può essere amici, può essere, capito? L'affetto, l'emozione. Dalla sfilata al Metropol, al bagno di folla per l'opening boutique. Una giornata intensa per Letizia Casta, madrina degli eventi di Dolce e Gabbana nella Fashion Week milanese. L'attrice francese è testimoniale insieme al modello statunitense Noah Mills dei profumi Pour Femme e Pour Homme firmati dai due stilisti. Ma questa è la serata che celebra il battesimo del nuovo store Dolce e Gabbana in pieno centro a Milano, più di 900 metri quadrati arredati nello stile della Sicilia anni 50, con gli armadi di legno e le cassettiere dal sapore antico. All'inaugurazione in corso Venezia 7 arrivano molti volti noti, amici di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ma l'evento è aperto al pubblico e sono soprattutto i giovani ad approfittarne. E' bellissimo qui, tutto quello che fanno Stefano e Domenico è bellissimo, farò un giretto per vedere. Mi piace tutto di Dolce e Gabbana, oggi indosso un loro abito, amo il loro stile semplice così come il recupero delle tradizioni siciliane. Sono grandi. Il mio armadio è come una tavolozza e ogni giorno dipingo il quadro della mia vita. In base a come mi sento ho voglia di divertirmi, ho voglia di ridere, ho voglia di colore, ho bisogno di sentirmi energico quando esco fuori di casa, perché già la vita è difficile. Se non siamo un minimo autoironici, un minimo colorati, un minimo energici, noi stessi per primi il mondo va a rotoli. Quanto ci ha messo oggi per vestirsi? Esattamente tre minuti secchi. Rapporto con la moda? Sì, sono giovani per cui mi piace molto seguire la moda, Dolce e Gabbana sono due grandi amici, molto femminili, molto italiani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.